Due defibrillatori sono stati consegnati alle scuole comunali Ugo Palermo e Villa Adele, sorteggiate a conclusione del progetto Leggendo Crescendo, che ha promosso esperienze di lettura nella scuola dell'infanzia. A donarli alla presenza del sindaco Luigi De Magistris e dell'assessora alla scuola Anna Maria Palmieri, la società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo, che dal 1877 si occupa di assistenza sanitaria integrativa e Humaniter, società umanitaria, luogo di incontro, progettazione e aggregazione sociale. Questo è uno dei tanti percorsi, perché anche come sindaco della città metropolitana abbiamo messo un finanziamento importante per tutti e 92 comuni della città metropolitana per l'acquisto di defibrillatori, così come anche il ragionamento che stiamo facendo con la pace rossa e con altre istituzioni nella nostra città. Credo che sia un messaggio forte di civiltà, di sicurezza e di diritto alla salute, perché avere più defibrillatore in diversi punti della città significa salvare vite umane. Cominciare a fare dalla scuola credo che sia un messaggio importante anche dal punto di vista pedagogico ed educativo. È un'alleanza per la salute. Devo dire che abbiamo raccolto questa bella disponibilità della società Mutua Pozzo per offrire alle nostre scuole e ai nostri bambini presidi sociosanitari. In questo caso siamo di fronte a due defibrillatori che verranno consegnati nelle scuole dei più piccoli. Ora ovviamente noi pensiamo che a 360 gradi la scuola possa presidiare le esigenze e i bisogni delle famiglie e quindi mettere in moto alleanze intorno alle scuole sinergie pubblico privato a partire dal fatto che l'ente locale ovviamente diventa l'intermediario di questa relazione ci sembra un buon progetto politico oltre che una bella progettualità di natura sociale.